...pensato che il rap fosse solo... ...prima di interiore... ...i ragazzi adesso ve lo faranno vedere qui noi abbiamo... ...vallerini speciali, i nostri Fred Astaire e quindi Fabio Daniele con Tranchi Panchi tutte le sere voi avete l'occasione di stordirvi con Tranchi Panchi e loro adesso vi faranno la dimostruzione di come si ascolta e di come si balla Vai Lorenzo! ... 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